Il punto non è se canta bene o no. Ma cosa indossa sul palco? Elodie risponde agli hater citando Laura Pausini. La tengo come Todas così aveva risposto la cantante a un concerto a Lima dove dall'accappatoio si intravedeva, forse, qualcosa di troppo Il tour tutto esaurito di Elodie fa parlare e non solo per le sue doti cannele La cantante è stata travolta dalle critiche per i vestiti che indossa sul palco Minigomme, short e abitini troppo corti e troppo attillati che hanno catalizzato i commenti sui social Messaggi sessisti e denigratori in cui viene appellata nei modi peggiori che hanno avuto il loro culmine con i tweet sull'abito rosso con spacco vertiginoso indossato al concerto di Roma Elodie, su X, ha così risposto alle polemiche, citando Laura Pausini, la tengo come Todas Con l'ormai celebre uscita fatta alla fine di un concerto a Lima nel 2014, l'interprete De La Solitudine giustificò le voci di un presunto incidente definito, come sempre accade, Hot, ovvero l'apertura improvvisa dell'accappatoio che indossava al momento dei saluti In quell'occasione, Laura Pausini così come lo dì, non era nulla Ero molto imbarazzata per il fatto che molti lo scrivevano Sono una persona pubblica In Italia è diventata la notizia dell'amo Mi ha fatto molto sorprendere, disse in seguito la notizia No 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 Grazie a tutti.